Ciao a tutti, sono Stefano Bargiacchi, Profste, oggi è sabato 6 dicembre 2014 e come sempre vi do il benvenuto alla nostra videoanalisi settimanale che però, a differenza di sempre, è finalmente in una nuova veste, quindi è di nuovo un'evoluzione in questo appuntamento fisso che da ormai 8 anni ci accompagna puntualmente e settimanalmente e che poi durante la settimana, come sapete, sulla pagina Facebook Profste vede aggiornamenti quotidiani con la nostra analisi, il quadro macro che ogni mattina puntualmente pubblichiamo come sempre molto apprezzato e tra l'altro di questo vi ringrazio, così come vi ringrazio appunto per seguire puntualmente questo spazio di analisi settimanale che in video permette un riassunto dei temi appunto su base settimanale riguardanti la settimana che si è appena conclusa e ovviamente la proiezione dei temi da seguire per le prossime sedute nella settimana entrante. Come vedete è finalmente tornato Visual Trader dove abbiamo grafici daily, questo è il piano di lavoro che insieme al Profste Trading Group utilizzo quotidianamente appunto nel trading, vedete che ci sono grafici daily dei quattro future che seguiamo principalmente quindi per l'Europa lo sappiamo bene, Eurostoxx 50 e DAX, per gli Stati Uniti S&P 500 e Nasdaq, scadenze di dicembre nel senso la scadenza più vicina. Poi ci sono i grafici continuous, vediamo un attimo com'è il piano di lavoro, cioè i grafici storici, vedete, che permettono di dare sempre con time frame giornaliero una visione più ampia di quello che sta accadendo dove sono presenti anche i volumi molto importanti come sappiamo, specie per le analisi prospettiche. Ad esempio, una cosa che notiamo molto molto importante è proprio la differenza, specie negli Stati Uniti, tra i volumi sulle discese e i volumi sui recuperi. Guardate questa risalita che ha portato ad esempio Nasdaq ed S&P 500 su nuovi massimi, in particolare per l'S&P 500 sappiamo che i nuovi massimi sono nuovi massimi storici, nuovi massimi di tutti i tempi. Ecco, vedete come rispetto appunto ai volumi della discesa che erano appunto in crescita, sono stati volumi decrescenti, volumi sempre più bassi. Questo sicuramente si vede anche dall'ampiezza delle barre, che nella salita sono molto deboli, non c'è una forza particolarmente decisa, anche se poi passo dopo passo, quello che si chiamerebbe creeping trend, un trend che va avanti appunto a piccoli passettini, resta positivo e fa segnare comunque nuovi massimi. Quindi è molto importante questa osservazione, perché se da un lato non possiamo negare la positività, che soprattutto negli Stati Uniti è in dubbio, ricordiamo che gli Stati Uniti sono in trend crescente da tempo, si vede molto bene appunto, e di nuovo grazie ai grafici storici, è anche vero che i volumi in calo durante la salita sono comunque un invito, rappresentano comunque un invito alla cautela. Volumi in calo durante la salita che un pochino ci sono anche in Europa, anche se i volumi hanno meno questa forma così di discesa, però il problema qual è? Che la situazione in Europa è molto molto più complessa, perché è vero che c'è un recupero in atto anche in Europa, ma a differenza degli Stati Uniti c'è stata un'inversione di trend al ribasso, che ancora, malgrado il forte recupero e i nuovi massimi, che oltre i 10.000 massimi storici il DAX ha fatto segnare, vedono ancora il trend formalmente al ribasso. Questo è sicuramente il tema che da mesi ormai ci trasciniamo, perché va avanti più o meno dall'estate scorsa, e che vede una divergenza formale appunto tra la situazione degli Stati Uniti e quella europea, che poi si riflette in giornate come quella di giovedì, dove c'è stata una discesa a seguito della decisione della BCE sui tassi di interesse della conferenza stampa di Draghi, una discesa sicuramente molto marcata e che nuovamente ha avuto un aumento di volumi. Quindi resta una situazione molto complessa, quella europea, che riflette la difficoltà a livello economico e di crisi, e che si riflette nel fatto che il trend a livello formale ancora decresce. Dico a livello formale perché comunque il DAX oltre i 10.000 ha fatto segnare ancora nuovi massimi, massimi di tutti i tempi. Quindi c'è veramente una situazione complessa che cerchiamo di osservare meglio guardando appunto il grafico di periodo, il grafico della scadenza dicembre. Tra l'altro sempre nell'escurso riguardante il piano di lavoro, volevo farvi vedere importantissimi i market profile, sempre dei quattro future che seguiamo, quindi Eurostox, DAX, S&P 500 e Nasdaq, con Eurostox e DAX che coprono tutti gli orari di apertura dalle 8 alle 22, mentre S&P e Nasdaq sono solo per la sessione di urna, come sappiamo appunto quella più importante da seguire per quanto concerne il market profile. Poi ci sono i grafici intraday, qui sotto abbiamo la serie di grafici con il time frame orario, sempre riguardanti S&P, Nasdaq, Eurostox e DAX. Qui sopra invece ci sono i grafici con time frame intraday, nel senso al di sotto dell'orario, e che quindi sono grafici NTIC, molto importante al di sotto dei time frame orari, appunto utilizzare i grafici NTIC. Qui c'è l'Eurostox, a NTIC 100, che è quello sul quale ci si concentra magari per osservare meglio alcuni andamenti e inversioni in intraday, e qui i time and sales dove si fa tape reading, tape reading accompagnato anche dalla lettura dei book e, come sapete, dalla lettura anche del tv book. Ma a parte questo, torniamo un pochino alla situazione. Allora, i trend in Europa sono decrescenti, laddove invece negli Stati Uniti sono, lo ripeto, crescenti. Questo che cosa significa? Significa appunto che c'è una divergenza, divergenza perché non c'è stata ancora un'inversione di trend al rialzo, cioè che ha allineato i trend europei, malgrado i forti recuperi e i massimi storici, come detto, fatti segnare dal DAX, che ha allineato i trend europei a quelli statunitensi. Però c'è stato sul DAX, proprio col fatto che ha fatto segnare nuovi massimi, un massimo che sta facendo segnare proprio in questi giorni, che comunque vada sarà un massimo superiore. E quindi questo massimo, magari non si fermerà qui, potrà il pivot, la rotazione, avvenire più in alto, più in basso, non lo sappiamo, ma presto o tardi questo massimo sarà sicuramente un massimo superiore al precedente, come si vede chiaramente. Quindi possiamo considerare il DAX come aver esaurito almeno il primo allarme di inversione di trend. Cosa succederà dopo? Ci sarà un ritracciamento che farà segnare sicuramente un minimo superiore al precedente, quando e qualora anche qui ci fosse una rotazione, un pivot. E a quel punto, se il massimo superiore fatto segnare sarà superato nuovamente, ecco che il trend sarà finalmente, anche dal punto di vista formale, a rialzo. Stessa cosa per l'Eurostox, ma, e in questo la complessità, c'è una piccola divergenza col DAX, nel senso che il massimo non è ancora superiore al precedente, quindi l'Eurostox è ancora in un trend ribassista, senza neanche, come invece è avvenuto sul DAX, aver fatto segnare un massimo superiore al precedente, quindi perlomeno un primo allarme di inversione di trend, quindi un primo allarme di possibile allineamento con la situazione statunitense. Quindi dovremmo per prima cosa seguire come si svilupperà in realtà la divergenza fra DAX ed Eurostox, cioè andare a vedere se il DAX, attendendo in qualche modo l'Eurostox, farà sì che lo stesso Eurostox superi i massimi precedenti, quindi si vada a porre al di sopra di quest'area dei 3.300 facendo finalmente segnare a sua volta un massimo appunto superiore al precedente che sarebbe, lo ripeto, un primo allarme di inversione al rialzo del trend che rimane ribassista. Quindi abbiamo una divergenza tra DAX ed Eurostox con il DAX su nuovi massimi e che quindi sicuramente avrà fatto segnare un massimo superiore al precedente al primo allarme di inversione, mentre l'Eurostox è ancora al di sotto degli stessi e qui dovremmo vedere come si risolverà. A quel punto poi, se è vero che tutti e due si allineranno in qualche modo, bisognerà vedere quando e se faranno segnare un secondo allarme, nel caso del DAX che ha già fatto segnare il primo allarme, ovvero allineamento dello Stox che facesse segnare un massimo superiore, a quel punto porterebbe ad un'attesa di un minimo superiore anche per l'Eurostox, quindi di un secondo allarme. Certo non è detto che accada. Dobbiamo appunto vedere. Dopo il secondo allarme, i nuovi massimi eventuali vedranno un'inversione di trend al rialzo e quindi un allineamento con i trend rialzisti degli Stati Uniti. Negli Stati Uniti, poco da dire, come detto, la positività è sicuramente in dubbia. l'S&P 500 continua a far segnare nuovi massimi di tutti i tempi. L'unico dato da rilevare è appunto il fatto che su questa salita, ma si vede, lo ripeto, anche dall'ampiezza delle barre, ci sono comunque, e questo invita la cautela, malgrado se sia appunto su massimi storici, su massimi di tutti i tempi, volumi che sono in calo lungo tutta la salita e anche l'ampiezza delle barre è abbastanza contenuta. Quindi un pochino di cautela serve, anche perché poi potrebbe portare a giornate come quella di giovedì, dove oggettivamente la discesa è stata abbastanza repentina e marcata, anche se poi è rientrata quasi subito. Vedete, ad esempio, anche a livello di, proprio parlando della discesa di giovedì, che sul grafico orario è questa barra verticale rossa che vedete molto marcata. Sì, è vero che poi nella giornata di venerdì è stato recuperato quasi tutto il terreno perduto. Ma guardate a livello di intensità, guardate a livello di lettura del momento. Vedete, con un'unica barra oraria c'è stata una discesa molto forte e poi con fatica, con un'incertezza anche, se volete una minor decisione, più che incertezza, c'è stato il recupero. Questi comunque sono segnali di una situazione sicuramente complessa che invita ancora una volta alla cautela. Ma, e lo ripeto, i temi più importanti da seguire nella settimana entrante sono la divergenza tra DAX ed Eurostox, con il DAX su nuovi massimi, che quindi eventualmente rappresentano già in qualche modo un primo allarme di inversione del trend, che per ora, anche se è paradossale, un po' come situazione, formalmente rimane al ribasso, mentre l'Eurostox non ha ancora fatto segnare nuovi massimi, e quindi bisognerà vedere in primo luogo se li farà segnare a sua volta, e poi su quella rotazione anche lui farà segnare un primo allarme di inversione di trend, mostrando così a livello europeo una volontà di riallineamento con i trend statunitensi, che invece sono ancora, e da tempo, stabilmente a rialzo. Grazie a tutti quindi per aver seguito questa nuova videoanalisi, nuova nel senso che appunto ci permette finalmente di seguire i future su Visual Trader, quindi i valori esatti dei future con i grafici storici e di più ampio respiro e spettro, cosa che sicuramente, e sono certo, sarà gradita. Ci sono altre novità in corso che in questo mese di dicembre stiamo in qualche modo implementando, approfittando un pochino delle pause festive e che quindi poi da gennaio sarò in grado di appunto, sempre insieme al ProfStay Trading Group, che ogni giorno insieme a me fa trading, utilizzando come voi del resto il metodo ProfStay, sarò in grado appunto dal mese di gennaio di presentarvi. Grazie a tutti e a presto ci sentiamo e vediamo virtualmente sulla pagina Facebook ogni giorno con gli aggiornamenti e le analisi giornaliere.